Non solo ondrangheta, è un bilancio poliedrico quello fatto dall'Arma dei Carabinieri della provincia di Reggio Calabria per il 2016. Particolare attenzione alla prevenzione dei crimini per migliorare la vivibilità di una città costretta comunque a fare i conti con il fenomeno mafioso. Sono stati circa 72.000 servizi di prevenzione, controllate oltre 233.000 persone e 147.000 veicoli. Ma sono le cifre della repressione quelle che permettono di comprendere lo sforzo investigativo degli uomini dell'Arma Regina rappresentati oggi dal tenente colonnello Vincenzo Franzese a capo del reparto operativo. Nel 2016 sono finite in cella 1.106 persone, fra cui 7 latitanti comuni, uno di massima pericolosità come Ernesto Fazzalari, ben 4.061 invece, le persone denunciate a piede libero. Consistente il contrasto alla coltivazione di canapa indiana con il rinvenimento di 52 piantagioni. Incisiva anche l'attività di aggressione e patrimoni illeciti per un totale di 127,5 milioni di euro sequestrati o confiscati. Fra le inchieste più importanti in tema di Indrangheta, quella che scriverà la storia giudiziaria regina come mamma santissima e poi ancora Region, Sansone, Ecosistema, Saggio Compagno. Un'attività che, come assicurato dal colonnello francese, promette già significativi successi per l'anno che sta per arrivare. Consolato Minniti per la CNews24.